fuori 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 Andate tutti a fare schifo 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 ma che cavolo fai Paolo? che cavolo fai? che cavolo fai? anche cristante non so come fa a giocare in serie A come fa a giocare cristante in serie A comunque la live è proprio cioè la live è che il commento lo faccio domani credo comunque andate andate tutto a fare schifo ma che cavolo fai che cavolo tu vai tu fai non capisco me il cristante può giocare in serie A non capisco una partita fuori comunque il civile è stato meritato ovviamente smonti si è andato via tanto come dicono tutti tanto a bambino in balance almeno anche lui è un po' forte ma che cavolo è forte cavolo è forte come tu lo si chiama quell'altro abbiamo fatto giocare benissimo io non l'ho visto ho visto un po' di azione ho visto un po' di azione su youtube o no cristante che cavolo fai che cavolo fai che cavolo fai una partita fuori mi si vede che è stra 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 ameritano era non sapevo che essere dire ragazzi non so che cavolo dire la roma secondo me l'ha fatta apposta perché tanto dice il campionato è finito quindi ci sono andati in vacanza già andavamo anche noi e bella ci è andato boh andate in vacanza vai andate tre due domani farò la live reaction non so che chiudica che istante balla 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 cioè scrivo cosa di commenti vabbè la merita scrivo cosa di commenti perché mi va così la voce boh ho più parole ragazzi non ho più parole vergogna vergogna oggi abbiamo dormito completamente vabbè ho dormito 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 completamente dormito ciao ragazzi vediamo credo il maniera live reaction